Allora io, dopo che ho fatto Italia's Got Talent, molti mi hanno detto vai, vogliamo altri miracoli, cioè raccontare altri miracoli, raccontaci altri... se non ci racconti altri miracoli ti veniamo a prendere a casa, asino, ti veniamo... però no, non funziona così, ok? Cioè, adesso nel mio piccolo ovviamente non è che l'arte funziona così, non è che c'è un pubblico, un mercato che dice vogliamo questo, è l'artista, tra virgolette, ovviamente lo fa, vogliamo questo? Ok, no, non è che qualcuno voleva la Guernica, Picasso, no, va bene, no, ovviamente però capendo, ed è per questo che io, contro quello che vogliono molti, che mi hanno chiesto molti, io voglio concludere questo spettacolo in maniera un po' diversa, ossia io voglio lasciarvi con un racconto, un discorso, voglio raccontarvi, non so più dove è lo spazio, voglio raccontarvi una sorta di best of dei miracoli di Gesù, perché va bene il rispetto verso l'arte, ma anche verso il mio Iban, devo dire che farei un applauso all'Iban, che comunque... ok, va bene, se mi metti un po' di atmosfera che c'è già, un filo di musica, io vado con il best of dei miracoli di Gesù, vai, anche così va bene che c'è comunque concentrazione, va bene, vado, best of dei miracoli di Gesù. Gesù nasce con la missione, lui deve diffondere il verbo, punto, parlare. E appena può, da bambino, va in un tempio e inizia a parlare, sommissione, inizia. Va nel tempio e inizia a parlare, però non accade nulla, lui parla per tre giorni e non accade nulla. Perché non accade nulla? Beh, perché tu non è che puoi asciugare la gente così, capito? Cioè non è che puoi star lì tre giorni senza neanche un coffee break, uno snecchino, senza neanche una slide, un power point, dici guarda il perdono, la prossima slide, abbiamo le cose... E quindi lui parlava poi come parla un bambino. Non so se avete mai parlato con un bambino che arriva lì e vi dice, l'altro giorno, l'altro giorno il mio papà mi ha detto che noi andiamo in Basilicata. Tu dici, che cazzo te l'ha chiesto, bambino, non... Nessuno... E così immagino Gesù che parla, come un bambino, ma coi concetti di Gesù. E coi maestri che gli dicono, ma bambino, ascolta, ma dove sono i tuoi genitori? Beh, beh, mio papà, mio papà, mio papà è nell'alto dei cieli che comanda tutto l'universo. E i maestri, ok, ok. Dopo tre giorni vengono a recuperarlo. Tre giorni a quel tempo non l'hai perso, d'accordo? Tre giorni ti sei preso un weekend, ti sei preso un weekend, ma tranquillamente tu vedi Maria che perde Gesù, fa, ah Giuseppe, Giuseppe, perso Gesù, cerchiamolo, cerchiamolo. E Giuseppe, ok, cerchiamolo, oppure andiamo alle terme. Andiamo alle terme, torno, dove è mio figlio? Ah, eccolo qua, Gesù, dai andiamo. Papà, che pori dilatati che hai. Giuseppe, ragazzi, è una figura che mi ha sempre commosso. Giuseppe è un eroe, è un eroe, ok, è un eroe. Giuseppe, sono incinta. Sono incinta dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo? Di chi? Esattamente, ma per... è un eroe. Porto Gesù in bottega con sé, lo porto a lavorare e secondo me ogni tanto, siccome Gesù doveva spaccare il mondo, salvarlo, spaccava nel senso, doveva spaccare il mondo, non ha fatto ancora nulla, cioè stella cometa, immagino, non aveva ancora fatto nulla. Ogni tanto, Giuseppe, qualche battuta gliela fa. Lo prendo un po' per il culo, ma da padre, da padre, perché è il papà? Sono lì che lavorano, come falegname, non sono lì così. Questo per me è il falegname, è un uomo che accarezza una nuvola, ok? Questo è. E' lì che lavorano. Giuseppe ogni tanto, che non è un comico, ogni tanto dice, Gesù, devo dire che la mensola che hai fatto l'altro giorno? No. E' veramente divina. Dai, va, lasciami stare, va. Cos'è che hai? Cos'è che hai? Le manine sante? Dai, oh, il tavolino mi sarebbe per domani mattina, eh? Fammi il miracolo! Dai, padre, oh, è grande, oh, padre, c'è di stare, dai, predentore, boh! Ma, cioè, capite? Con amore, con amore! Poi sappiamo com'è andata, no? Sappiamo com'è andata. Matrimonio? Manca il vino. Dicono, eh, manca il vino, andiamo a comprarlo. Gesù, in un atto di arroganza, a comprarlo cosa? Passa sta brocca, boh! E da quel momento, il Vangelo, da quel momento tutti credettero in lui. Cioè, prima tutti, boh, ma vabbè. Da quel momento, P2, P2, P2! P2, 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 frate! Oh, oh, ragà! Quando Gesù capisce sta cosa, che gli uomini vogliono i miracoli, le parole vogliono i miracoli, gli si chiude la vena e parte a manetta. Fa pesca miracolosa 1, pesca miracolosa 2, e pesca miracolosa 3, dopo la resurrezione, per dire che lui, sì, era morto, ma non era cambiato! Pooh! Sì, è lui! Guarisce, guarisce un sacco di gente, guarisce un lebroso con una frase, una benedizione, guarisce un paralitico con una frase, una benedizione, guarisce un cieco, sappiamo come, no? Sputandoli negli occhi. E il cieco, cazzo, ma le frasi erano finite, dai. Inventi una cosa, cieco, cieco tu, non sei cieco più e mi curi, non è che devi inventare. Ti prendi un autore, no, beh, grazie, però dai, andare. Guarisce anche, c'è scritto, la suocera di Pietro. Io immagino, arrivano a casa della suocera di Pietro, casa di Pietro fa, ah, Gesù, Gesù, c'è la suocera di Pietro che sta male, sta morendo, guariscila, guariscila, guariscila! E Pietro, ragazzi, non è che può far tutto, però, eh. Cioè, Gesù, se non te la senti, non ho la trame, la sento. Figurati il bastardo. Guarisce, torna, hai visto, hai visto la suocera? Caspita, che bravone, wow, wow. Appena posto lo rinnego tre volte. No, 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 al gabbio ti mando, al gabbio.